Luigi Maria Epicoco, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel nostro posto delle parole per condividere un piccolo ma intenso libro pubblicato dall'edizione Messaggero di Padova, La Libertà di Antonio. Ricordo che Luigi Maria Epicoco è un presbitero della Diocesi dell'Aquila, insegna filosofia e si occupa di formazione di laici e consacrati. Al suo attivo ha molti testi, soprattutto di spiritualità cristiana, tradotti in diverse lingue, l'ultimo dei quali, se non ricordo male, è per costruire il fuoco pubblicato da Einaudi. Ma di questo parleremo a chiusura di questa conversazione. Vorrei però soffermarmi, Luigi Maria Epicoco, aprendo questa nostra conversazione su quanto lei fa per quanto riguarda la formazione laici e consacrati. Ci vuole raccontare in che cosa consiste questa formazione? Beh, in realtà in poca roba, nel senso che lungi da me pensare che io in qualche maniera sia un maestro che trasmette delle nozioni agli altri. Semplicemente condivido ciò che sperimento essere vero dentro la mia vita e soprattutto per un cristiano è l'insegnamento del Vangelo, che poi in realtà è un insegnamento che spalanca le porte, non le chiude e che va oltre i confini. Quindi in realtà è qualcosa che tocca all'umano in quanto tale. Anche un credente deve ricordarsi di essere umano. E qui tocchiamo già proprio il senso della vita, dello sguardo di un tale Fernando, che cominciò la sua vita pensando, come tutti i bambini, come tutti i ragazzi, a un futuro straordinario. E questo Fernando, il futuro della sua vita, l'ha avuto sicuramente straordinario, ma quanto ha dovuto costruire. Ma in questo libro lei ci racconta la figura di Antonio, Sant'Antonio da Padova, per capirci, da una prospettiva molto singolare, la prospettiva delle scelte di una persona. E in queste scelte noi ci possiamo risperchiare, Luigi Maria Epigoco. Sì, perché forse noi siamo un po' vittime di una narrazione sbagliata della vita dei Santi. Cioè, in pratica abbiamo ridotto i Santi a Santini e ci siamo dimenticati che in realtà lì ci sono delle persone che avevano una storia, dei conflitti, il loro buio, i loro sogni, le loro speranze. E quindi avvicinandoci invece alla loro umanità troviamo qualcosa che possa provocarci da zero, fino in fondo. Antonio da Padova, che è stato forse uno dei Santi più diffusi, più conosciuti in tutto il mondo, in realtà viene da un vissuto anche tormentato, fatto di scelte radicali fin da quando era un ragazzo. E mentre scavava dentro le proprie scelte scopriva anche un tesoro che poi oggi noi lo riconosciamo davanti agli occhi di tutti come qualcosa di prezioso. Però ciò che conta è esattamente questo, cioè il fatto che quest'uomo nei momenti nevralgici della sua vita ha avuto il coraggio di fare delle scelte. Eh sì, ha avuto il coraggio di fare delle scelte e forse sta anche qui la sua santità, il coraggio di decidere, perché la vita, come lei ci spiega in questo libro, la vita si realizza proprio nello sciogliere, nella decisione, nel prendere una certa strada rispetto ad un'altra. E su questa idea lei ci fa fare delle riflessioni molto importanti, prendendo sempre come spunto, camminando con Fernando dal Portogallo fino a Padova. Ecco, da che cosa si è lasciato affascinare Luigi Maria Epicocco la prima volta che ha incontrato la figura di quest'uomo? Beh, esattamente da questo, cioè dal fatto che noi siamo più abituati e forse più familiari ad ascoltare la storia di Francesco D'Assisi, quindi la rottura che Francesco stabilisce con il suo passato e poi questa radicalità che si manifesta con il gesto di consegnare persino i vestiti a suo padre. Ma Fernando invece, cioè il nostro Sant'Antonio, in realtà viene da una famiglia molto agiata, non ha strappi, non ha traumi, non viene da un vissuto godereccio per poi passare in realtà a un vissuto radicale. Potremmo dire un bravo ragazzo, un bravo ragazzo che non si è contento di essere bravo, di essere contento, vuole essere felice. Per essere felice si accorge che ha bisogno di fare qualcosa di molto di più che essere semplicemente un bravo ragazzo. Così il fortuito incontro con un manipolo di frati francescani, i cinque frati, che poi in realtà moriranno martiri in Marocco, suscita dentro questo giovane il desiderio di dire ma perché cosa sto vivendo, perché cosa vorrei dare alla mia vita? Da quel momento in poi esce dal monastero dove vive, il monastero agostiniano, indossa il ruvido saio francescano e comincia un'altra avventura, un'avventura che lui l'aveva immaginata finire in mezzo a quelli che venivano chiamati gli infedeli, così a testimoniare il Vangelo, ma in realtà si ritrova con un naufragio, con una febbre catapultato nelle coste della Sicilia e da lì inizia una storia inedita anche per lui, fino a tirar fuori quella luce che era nascosta in lui e che lo porterà a diventare consolazione, forza, parola per tantissimi. Sembra una vita lunghissima, ma in realtà muore molto giovane, neanche quarantenne, ma lasciando una traccia profonda nel suo passaggio. Lei ci ricorda che bisogna sempre in ogni modo raccontare, perché serve a raccontare il punto di partenza. C'è ciò che lei ha fatto raccontando la vita di quest'uomo, perché ci ricorda anche che bisogna partire soprattutto dal presupposto che la vita ci è stata donata, ed è questo il punto di partenza. Credo che sia un punto di partenza importante sia per comprendere la nostra vita, sia per comprendere la normale, nello stesso tempo, straordinaria santità di Antonio. Sì, tra l'altro da credente ovviamente io sono convinto che la vita ci è stata donata da Dio, ma laicamente potremmo dire che ognuno può dire che non si è dato la vita da solo, che la vita è una cosa che ci siamo ritrovati, non abbiamo scelto di vivere, ci siamo ritrovati vivi, ma da quel momento in poi dobbiamo decidere che cosa ne vogliamo fare di questa vita che non abbiamo deciso di avere. Quindi si tratta proprio di assumere un protagonismo che sprigioni da noi un potenziale che certamente è seppellito dentro ciascuno di noi. Questo piccolo libro nasce da alcuni incontri, da un incontro che lei ha tenuto tempo lo scorso anno. Ma lei quando racconta la figura di Antonio davanti al pubblico, davanti al pubblico si sente, no? Quale aria tira, l'interesse, gli sguardi. Ecco, che cosa sente che il pubblico possa rispondere dal punto di vista proprio del sentire, dell'ascoltare le sue parole? Guardi, io percepisco molta commozione e molto affetto, nel senso che quando ci si accorge che quei santi che molto spesso noi mettiamo su nelle nicchie o le usiamo semplicemente per le nostre processioni o per impetrare qualche miracolo, quando ci accorgiamo che anche loro hanno carne e sangue, che hanno un'umanità, che hanno vissuto, diventano tremendamente vicini a ciascuno di noi. E quindi si stabilisce un legame ancora più profondo con queste figure. In questo senso ovunque ho potuto raccontare in questa modalità, ecco, la storia di Antonio, lì dove già c'era devozione in realtà è nato affetto, cioè un affetto forse più profondo, più amicale, ecco, perché poi in fondo sono gli amici che ci cambiano la vita e si può scoprire amici anche lontani 800 anni da noi. Sono gli amici che ci cambiano la vita, ma sono anche le crisi che ce la trasformano e lei pone una domanda, parlando di Antonio, pone una domanda a noi lettori, come si vive bene un tempo di crisi? Quante volte nella vita siamo costretti a vivere delle situazioni che non abbiamo scelto e qui ci rispecchiamo nella vita di Fernando, però la domanda come si vive bene un tempo di crisi? La parola crisi è una parola anche qui di scelta. Secondo me smettendo di medicalizzare le crisi, perché noi siamo abituati in questo periodo storico a trattare le crisi come se fossero malattie da curare. Le crisi invece fanno parte della vita, sono un sintomo della vita e anche se noi ci sentiamo tremendamente destabilizzati, più fragili, più deboli nei momenti di crisi, è proprio in quella debolezza, in quell'essere destabilizzati che si gioca il meglio della nostra vita. Quindi non dobbiamo cambiare le crisi, dobbiamo cambiare lo sguardo con cui guardiamo le nostre crisi. E certo, come guardiamo, tant'è vero che lei chiude questo libro dicendo che possiamo andare davanti a un santo come Antonio e domandare molte grazie, ma c'è forse un'unica grande grazia di cui abbiamo bisogno, vivere come egli ha vissuto. Sì, scegliendo, in fondo ha fatto questo, ha scelto di vivere. C'è un fondamento, un motivo grande per cui vivere la vita, ma non dobbiamo più cercarlo nei posti che conosciamo. E qui abbiamo cambiato libro in questa breve conversazione, perché andiamo a chiudere questa conversazione ricordando ai nostri ascoltatori un appuntamento dedicato a Torino Spiritualità. Domenica 1 ottobre Luigi Maria Epicoco sarà protagonista di un incontro intitolato Per custodire il fuoco, va de Mecum dopo l'Apocalisse a seguito del suo libro intitolato Per custodire il fuoco. Ecco, per custodire il fuoco, qui in che modo potremmo dire Antonio ha custodito il suo fuoco? Perché questa è una missione che tocca tutti quanti noi. Esattamente questo. Il tema sembra lontano, perché in realtà questo testo nasce dallo straordinario romanzo La strada di Cormac McCarthy, ed è un saggio attorno a quel romanzo. Ma giustamente lei ha intuito che è la stessa cosa. Il fuoco che ha cercato di custodire Antonio per tutta la vita è lo stesso fuoco che cercano di custodire i protagonisti del romanzo La strada di Cormac McCarthy e che in fondo danno un'indicazione a noi, agli uomini del nostro tempo, all'uomo contemporaneo che ha perso il fuoco, cioè che funziona bene, che è tecnologicamente avanzato, ma ha perso il senso della vita, cioè ha perso il senso del suo esistere, la passione per il proprio vivere. Allora, se noi ritroviamo il fuoco, tutto assume di nuovo un significato, ma se noi perdiamo questo fuoco, non possiamo limitarci semplicemente a funzionare nella vita. Ed è questo forse il grande dramma contemporaneo e paradossalmente Cormac McCarthy sembra raccontarci una storia che non ha via di uscita, ma poi imprevedibilmente questa via di uscita c'è e non è dove noi ce lo immaginiamo. Ad esempio non è nell'evasione, non è nell'ideologia, non è in una politica, non è in una cultura, è nel riprendere sul serio il dettaglio di una relazione, nel riprendere sul serio il dettaglio umano, proprio di costruire un rapporto di bene. Allora, lì dove le persone sono disposte a costruire un rapporto di bene c'è sempre una via di uscita dal buio, dall'inferno, dalla disperazione. Il fuoco è salvo. Eh sì, il fuoco è salvo e quindi lei parlava poco fa di relazione, Luigi e Maria e Picoco, mi viene in mente quel flashback che racconta di un giorno dell'infanzia del protagonista in cui con Luzio passa una giornata intera sulla barca nel lago per prendere un po' di legna da ardere. Non si parlano, eppure la relazione è straordinaria. Sì, tra l'altro è proprio questa la bellezza, cioè man mano che una relazione diventa intima non ha più bisogno di parole, perché funziona l'intesa, che è un linguaggio molto più potente e molto più profondo della stessa parola. Oserei dire che quando perdiamo qualcuno di caro, quando subentra la morte, ci sembra che una relazione sia rotta, semplicemente perché non c'è più la parola. Ma lì dove c'è l'intimità, nemmeno la morte può rompere quell'intimità e quell'intesa. Si continua a essere insieme, in silenzio, ma sia insieme. A proposito di parole di silenzio, se egli non è parola di Dio, allora Dio non ha mai parlato. È l'inizio di questo romanzo che ho sempre definito, anche se le definizioni servono a poco, un romanzo profetico. E c'è quella figura, la figura del padre, la figura del bambino che custodisce il fuoco. E tutto sta lì, in questa visione profetica del custodire il fuoco, il fuoco che è dentro, il fuoco come esperienza del presente, tragico in questo romanzo, ma come proiezione del futuro. McCarty non lo dice esplicitamente, ma in realtà fa una dichiarazione che è assolutamente conforme a quello che è lo sguardo cristiano, perché dicendo che in quel bambino lui fa l'esperienza di Dio, praticamente sta parlando dell'incarnazione, non più una teologia che ci aliena dalla realtà, ma un Dio che si è fatto carne, che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, che quindi se tu vuoi incontrare quel Dio, lo devi incontrare nelle cose concrete. Quel padre ha il proprio figlio e in quel figlio fa l'esperienza di Dio, l'esperienza dell'eterno, dell'infinito, del senso, del fuoco. Quindi è riprendere sul serio il reale che ci mette in connessione con l'infinito. E' giusto uscito ieri l'ultimo, ma l'ultimo davvero, l'ultimo romanzo di Conor McCarty Stella Maris. Ma mi interessa sapere, Luigi Maria Epicoco, lei quando ha letto il romanzo La strada, che cosa ha pensato? Come ha vissuto quella lettura? Perché è una cosa importante, perché io ho ragionato molto sul come si vive una lettura partendo proprio da questo romanzo. Guardi, io posso dire, forse anche senza imbarazzo e senza vergognarmene, che ho letto quel romanzo decine di volte, ogni volta che lo leggo piango, ogni volta che lo leggo quelle parole intercettano dentro di me qualcosa di ineffabile, indicibile. La scrittura di McCarty è una scrittura straordinaria, soprattutto perché McCarty ha la capacità di dire ciò che noi normalmente non riusciamo a dire e a tirar fuori da ciascuno di noi cose che normalmente censuriamo di noi. Quindi per me la strada è come se fosse un pezzettino di un libro dei profeti. Ancora leggendo quelle pagine mi sento guardato, visto, capito, compreso e mi sento anche spinto in avanti, tirato fuori. Per custodire il fuoco è il libro di Luigi Maria Epicoco pubblicato da Inaudi che sarà la traccia dell'incontro di domenica 1 ottobre a Torino Spiritualità, ma prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni, in realtà, non dovrei dirlo, ma sto leggendo Stella Maris. Stella Maris, quindi, è un'altra straordinaria lettura e ci dica, sono molto curioso, poi ci salutiamo, ci dica anche da poche righe c'è già un senso, c'è già un sentire, qualche cosa rispetto alla parola di McCarty. Guardi, quando si legge McCarty si ha sempre l'impressione di trovarsi davanti a qualcosa di gigantesco, ma chi è familiare con i libri biblici sa che nell'Antico Testamento c'è il libro del Coelet, cioè l'Ecclesiaste, che è uno di quei libri che tu vorresti sottolineare ogni riga, perché ogni riga apre un mondo. Ecco, questi ultimi due romanzi sono un po' come il Coelet, li vorresti sottolineare tutti, perché ognuna di queste cose aprono un mondo. Lei è un grande sottolineatore? Purtroppo sì. Perché purtroppo? Perché purtroppo gli altri che dovranno usare i miei libri li troveranno troppo vissuti. Sai che io amo molto prendere in mano un libro di qualcun altro e leggere le sottolineature, io trovo che sia un po' come entrare nella vita di una persona, senza sentirlo parlare attraverso le sottolineature, io trovo che questa sia una cosa molto bella, ma forse è una giustificazione al fatto che io sono un sottolineatore veramente imperterrito. Grazie davvero Luigi Maria Epico, buona giornata. Grazie a voi, grazie, arrivederci.